Buongiorno, siamo qui con Vincenzo Vizzini, fondatore di Holiday Depilatori. Quali sono le principali novità di prodotto che presenterete in questa edizione del Cosmoprof? In questa edizione noi stiamo ribadendo la vitalità di quella che è una depilazione che è antichissima, che noi abbiamo riscoperto da pochi anni perché abbiamo cominciato a farla in maniera seria da sei anni e sarebbe la pasta di zucchero, la sugar pasta, sugaring come la chiamano in qualche posto, che è un sistema veramente rivoluzionario perché consente di fare depilazioni con una manualità adeguata con un prodotto che è fatto soltanto di zuccheri e un pochino d'acqua e si usa nel modo opposto a quello in cui vengono usate tutte le altre cerette in quanto si stende contro pelo e si toglie secondo la crescita del pelo e abbiamo visto che sta avendo un successo che è quello che merita perché sono veramente dei grandi prodotti. Tutto il resto della nostra gamma sono tutte le altre cerette, dalle cerette a caldo alle liposolubili, varie formulazioni, però ecco il prodotto che secondo noi è quello del futuro perché apre una nuova frontiera della depilazione è la pasta di zucchero, pasta di zucchero a livello professionale. Grazie.